Mamma, hai tre diari comics, scegli quello che ti piace di più Questa Bene, ci dovrò fare un porridge ispirato a questo Ma perché tre? Apri il primo novembre 2023 Ah ma sei te Vai E prepariamo un porridge ispirato alla copertina di questo diario comics Ho avuto l'onore di essere stata inserita in un diario Il diario che poi compravo quando andavo a scuola E comics mi ha sfidato a fare questo porridge So che sarà difficile e creiamo una base di cioccolato E poi sopra ci metterò dei frutti di bosco che andranno a ricreare questa sorta di galassia Come sempre uso tanta fantasia Ho usato anche un po' di crema di pistacchi e ricreare il verde Dai, più o meno ci sta La base l'ho fatta con farina d'avena E questo è il mio porridge in tema comics Che ve ne pare?